Cari amici ben ritrovati, benvenuti nel mondo a due ruote, il mondo Luciano Moto, i più grandi showroom d'Europa, lui è il volto, la voce di Atos Lovera che ci accoglie, ciao Atos. Ciao Steffi, ciao ben trovati a tutti. Grazie a te per essere qui con noi, apriamo nello spazio espositivo dedicato a quadro, quindi al meglio del meglio dell'innovazione, della mobilità, è tempo di farlo, se ancora non l'avete fatto si possono vedere, si possono provare, si possono acquistare alle migliori condizioni. Certo Steffi, siamo concessionari ufficiali a punto quadro che rappresenta il massimo dell'innovazione per quanto riguarda la mobilità, a tre a quattro ruote, il brevetto quadro ha reso davvero obsoleto tutto quello che era prima presente nel panorama, con un sistema completamente nuovo, idropneumatico, che permette alle ruote di oscillare simultaneamente, quindi il piacere di guida è davvero notevole, molto molto maneggevole, un baricentro bassissimo, la trazione è raddoppiata, l'avantreno con due ruote garantisce una sicurezza senza rivali. A noi ci piace farci raccontare, dato slovera, un po' quello che vediamo, usiamo anche qualche filmato ufficiale, tanto per darvi l'idea, se ancora non ne avete visto muovere uno sia in città che nell'extraurbano, è vero, non ce n'è, per gli altri competitor sono assolutamente innovativi, oltre che bellissimi a livello di design ed avanguardia, è cambiato qualcosa nel mondo, nel commerciale, anche per quadro e Luciano Moto in anteprima, come sempre, vi offre le condizioni migliori. Certo, innanzitutto vorrei invitarvi tutti quanti a prendere un appuntamento per venire e prendervi il vostro mezzo, appunto, che sia il QV3 o il Q della quattro ruote, li abbiamo disponibili in prova completamente gratuita, acquistandolo potete godere comunque del servizio di permute del vostro usato, che sia a due o a quattro ruote, o anche a tre ruote, se avete un MP3 che volete sostituire col QV3 che va decisamente meglio, e abbiamo appunto l'operazione 50% che per quanto riguarda i prodotti di quadro diventa limited, per cui per l'acquisto senza anticipo, col 50% dell'istino ufficiale del mezzo avete, per quanto riguarda Cuder, 1150 euro di abbigliamento e accessori a vostra scelta, quindi inclusi nel prezzo, e con una rata da 200 euro in tre anni potrete utilizzare il mezzo che sarà subito comunque di vostra proprietà, con tre anni di garanzia, anziché i due offerti dalla casa, e tre anni di manutenzione scontata del 50%. Alla fine poi dei tre anni potrete decidere semplicemente se restituircelo senza alcun costo, oppure ve ne siete innamorati e lo volete sposare, finite di pagarlo versando l'altra metà. Bene, attenzione perché ci sono sempre tanti vantaggi, inclusi nell'operazione del 50%, adesso è diventata anche limited per questo genere di vetture, lo trovate solo qui, l'abbiamo dato per scontato, ci troviamo a Casalgrasso, l'universo Luciano Moto, ci sono però anche questi vantaggi che riguardano l'abbigliamento, la permuta, insomma tutta una serie di benefici di plus che solo questa azienda è in grado di darvi, cosa vuoi aggiungere che ti interrotto? In caso di permuta appunto possiamo valutare il vostro usato e scalarlo direttamente dal 50% iniziale, per cui potete ancora andare ad abbattere tantissimo la rata, che già di 200 euro comunque al mese è meno del costo di un noleggio col mezzo di vostra proprietà comunque, quindi possiamo scalarla direttamente dal 50% iniziale oppure se è di valore superiore riconoscervi la differenza e mettervi subito sul quadro. Bene, se dovete fare la cosa migliore venite ad informarvi, Atos sempre con la stessa velocità sinaptica per quello che riguarda la matematica vi farà i conti, se dovessi sedermi io ci metterei un attimino di più, voi fatelo con i vostri tempi ma scoprirete tutti i vantaggi economici a livello di qualità quando si parla di quadro. Ci siamo e ci siamo spostati nel salone dedicato alla casa di Akashi, benvenuti da Kawasaki, Luciano Moto qui a dimostrazione della pronta consegna, dei demo ride, della disponibilità praticamente tutta la gamma, anche le più cattive, com'è che l'hai definito poco fa? Missile terra a terra, beh Steffi, Kawasaki rispetto alle altre aziende giapponesi o motociclistiche comunque fa astronavi, per cui qua le abbiamo tutte quante in pronta consegna, appunto sia la ZZR14 in versione performance, quindi la più ricca, che è l'H2 SE oppure la SE Plus nuovissima 2019, che è davvero una moto, vi invito anche questa a venire a provare, abbiamo la demo, con cui si viaggia davvero velocissimo con la massima facilità, quindi un motore con un'erogazione esplosiva ma lineare al massimo. Abbiamo tutta la gamma, comunque Kawasaki in prova, quindi anche la nuovissima e attesissima Ninja 636. Spenderei ancora due parole per la Z900, che è a mio avviso la miglior naked media per rapporto qualità-prezzo, quindi una ciclistica precisissima, con un motore che è imbarazzante, pensa che le rotonde le fai con la quarta dentro, apri e vai via a cannone. Partiamo da 3.995, per la moto nuova con la nostra operazione 50%, quindi con due anni di manutenzione scontata del 50% e poi deciderete appunto se tenerla o riportarcela ricevendo un bel rimborso in base a quello che avete speso. Noi intanto vediamo qualche immagine, ci rifacciamo gli occhi anche con i conti, le rate, la disponibilità, non stiamo neanche a entrare nel dettaglio, lo sapete, ci sono le migliori condizioni di acquisto, ci fidiamo di quello che ci dice e soprattutto ci sono i demoraidi, ci tenete particolarmente, ma continua... Abbiamo davvero tutta la gamma, Steffi Demo, quindi per chi ha 16 anni e vuole già mettersi finalmente su una Kawasaki, da quest'anno può, Ninja OZ 125, moto prodotte rigorosamente in Giappone, quindi con la qualità che contraddistingue appunto Kawasaki e il prodotto giapponese, abbiamo praticamente finito il tempo, quindi vi invito tutti quanti a chiamarmi, a scrivermi a motokiocciolalucianomoto.com è il mio indirizzo, siamo sempre a Casalgrasso, in via Circonvalazione 49A, la strada che da Torino va verso Saluzzo, vi aspetto. C'è tutto lo staff, capitanato ovviamente da Atos Lovera, il nostro volto televisivo, ci sono tutti gli altri brand di cui questa azienda è concessionaria ufficiale, ci sono le date, gli eventi, non mancate, grazie a Atos Lovera, alla prossima volta in TV. Ciao Steffi, ciao a tutti, a presto. Cari amici, alla prossima.